Pace e serenità Non abbiate timore, non abbiate paura, espressioni di coraggio che dicono certezze. Dove attingere la forza? Dove attingere il coraggio e non spaventarsi nella tempesta? Soprattutto quando c'è il buio della notte e la tempesta nella notte. Dove trovare la forza? Gesù dice non temete sono io, non abbiate paura perché anche quando c'è il mare agitato, anche quando c'è tempesta, anche quando le onde sembrano più alte del normale, ecco al di là di ogni cosa c'è una certezza. Io non vi lascio soli, io vi accompagno. Questa è la certezza della fede, questa è la certezza che dà fiducia e soprattutto dà speranza. Giovanni al capitolo 6, versetto 16, 21 ci racconta proprio questo mare agitato, questo mare che viene spinto da un vento, questo mare solcato da Gesù che cammina e cammina e si avvicina a coloro che sono in barca, che navigano. Ecco, Gesù calma, Gesù cammina, Gesù si avvicina nella vita, soprattutto nel cammino della fede. Quando c'è Gesù, il mare nel suo movimento di andare, ma soprattutto nel suo movimento di vita, se viene, ecco, solcato dalla presenza di Gesù, da certezza, da fermezza, da quiete, da pace, da serenità. Vollero prenderlo sulla barca e la barca rapidamente tornò a riva verso cui erano diretti. È bello pensare che voler Gesù sulla propria barca significa raggiungere l'obiettivo. La fede è proprio questo, camminare nei solchi della vita, camminare la storia della nostra vita con una grande certezza. Gesù è nella nostra vita, Gesù è sulla barca della nostra storia, Gesù è negli eventi della nostra vita e se Lui è nella nostra vita, noi andiamo dritti nella direzione verso cui siamo diretti. C'è un evento naturale, quindi questo racconto parte proprio da un evento naturale abbastanza sicuro, però ci rimanda ad altri eventi, agli eventi della vita, agli eventi soprattutto del cammino della fede, agli eventi soprattutto della ricerca della fede, soprattutto gli eventi dove la fede comincia a tremare. Perché? Perché il cuore dell'uomo spesso si spaventa dinanzi alle difficoltà e ha bisogno di ancorarsi in certezze. Gesù è presente, questa è la certezza. Qualunque realtà viene presa dalla potenza di Gesù, quindi se si decide di prendere Gesù nella propria vita, nella propria storia, nelle proprie situazioni, tutto torna nella serenità. Gesù non è presente quando i discepoli sono lontani da Lui, ma Gesù è presente quando i discepoli lo accolgono sulla propria vita, sulla barca della propria vita. Questi apostoli che sembrano, questi pescatori che sembrano esperti di navigazione, invece sono sempre dei principianti, non sanno affrontare gli imprevisti, non sanno affrontare le difficoltà, ma Gesù entra e Gesù che va al di là dei vincoli fisici, Gesù cammina sul mare della vita. Nella logica del Vangelo la paura paralizza e rende difficile camminare nelle certezze, camminare perché quando ci sono delle difficoltà, dei dubbi, l'uomo, il credente pone a se stesso delle domande, pone a Dio stesso delle domande e pone a Gesù stesso delle domande. Ma se l'uomo è radicato e fondato nella fede, quelle domande da solo riesce a portarle nella direzione giusta e ad avere la certezza, non temere, sono io con te, perché temi? Il timore significa contare su di sé, contare sulle proprie forze, contare sulle proprie competenze, contare sulle proprie capacità. Invece Gesù dice non temere, sono io, ma perché temi? Di che cosa devi avere paura tu, piccola mia creatura? Se c'è la mia parola, se c'è la mia presenza, di che cosa tu devi aver paura? Io, dice Gesù, ho fermamente e fortemente sotto controllo il timone della tua vita, abbi fiducia in me. Gesù allora cosa fa? Rinnova il prodigio dell'Esodo, calma le acque, le sistema e le mette nella forza giusta per la vita e non per la morte. E non c'è bisogno di dividere le acque per poterle solcare. Gesù le domina, Gesù le predomina, le attraversa e aiuta anche coloro che si trovano davanti a questa decisione, al bivio di che cosa fare. Gesù apre alla fiducia. Gesù che è presente dirà da il buio. Gesù che è presente ha la forza anche sugli elementi naturali. sono io, non temere, sono io. Quando si è nel dubbio, quando si è nell'incertezza, basta avere, possiamo dire questa porta aperta con il cielo, porta aperta con la certezza della parola, per avere la certezza che la luce, la forza, la potenza di Dio entra nella nostra storia. E nonostante tutti i fraintendimenti, i tradimenti, i rinnegamenti, le ambiguità, noi, tutti noi credenti, tutta la Chiesa, ha spesso e spesso smarrisce e si trova un po' nel buio, un po' nella tempesta, ma il suo Signore, il Signore della nostra fede, il Signore della nostra vita, il Signore della Chiesa, il Signore del mondo, non può lasciarci soli e ci dice abbi fede, abbiate fiducia. Perché? Perché lo Spirito vi dà la certezza che io sto con voi. Lo Spirito vi dà la certezza che voi in me potete trovare la sicurezza e potete addirittura imitarmi. Come Gesù è capace con la sua potenza che viene dalla sua intimità col Padre, avere anche il dominio sugli elementi naturali, anche voi se aveste fede quando un granellino di senapa potreste addirittura spostare le montagne. Possiamo fare i miracoli se la nostra fede cresce, se la nostra fede si ingigandisce, se la nostra fede davvero si poggia sulla potenza dello Spirito e sulla certezza della parola di Dio. Docile allo Spirito cerca di imitare Gesù, non perde la karma e diventa capace di ristabilire, di aumentare la concordia e la pace e si moltiplica la fiducia in Dio. Ebbene, la fede ha questo potere rendere docili, portare ad imitare Gesù, la fede ci permette di non perdere la calma, la fede ci permette di diventare capaci di ristabilire ogni equilibrio, anche naturale, anche relazionale, anche con se stessi, anche con il proprio limite, perché spesso le battaglie più dure, le difficoltà più grandi non sono quelle che vengono dalla vita o vengono dagli altri, le battaglie più grandi, le lotte più grandi sono quelle che nascono contro se stessi, contro le proprie piccolezze, le proprie arroganze, le proprie superbie, le proprie fragilità, il proprio limite. E allora, in quelle situazioni, Gesù ci ripete ancora, non temete. Giovanni ci dice che gli apostoli vollero prenderlo sulla barca, Gesù, e rapidamente la barca tornò a riva dove erano diretti. Ebbene, a noi ci viene fatta questa nuova proposta. Volete che Gesù salga sulla nostra barca? Vogliamo che Gesù salga e ci conduca lì dove siamo diretti? O vogliamo continuare ad avere fiducia in noi e solcare i mari della vita, i mari della nostra storia, il percorso, l'orientamento della nostra vita da soli, puntando sulle nostre energie e sprofondando nella fragilità e nelle paure del nostro niente, a noi la risposta, a noi la decisione. Pace e ogni bene. e ogni bene.